Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come configurare qualsiasi controller sull'emulatore della Playstation 2 quindi PCSX2, l'ultima versione che hanno rilasciato e ovviamente non la scaricavo da un bel po' di mesi quindi in questo caso per configurare al meglio un controller, qualsiasi controller che avete, sia wireless, bluetooth o cavo USB basta che vai direttamente su impostazioni, vai su controller, ingresso controller Dualshock 2 ed eccolo qua prima di configurarlo fate in modo di andare su gestione dispositivi e andare direttamente su una volta andati su gestione dispositivi fate in modo di trovare così la periferica Xbox 360 perché io quando collego così il controller al mio PC ma non segna come periferica Xbox 360 ed eccolo qua quindi il controller ora è connesso al nostro PC se in questo caso non dovesse andare vai su controller configura dispositivi di gioco USB ed eccolo qua connetti lo stesso il tuo controller quindi attraverso il cavo Bluetooth wireless ed eccolo qua controllo USB controller vai su avanzate metti questo qua e fai ok una volta collegato così il controller al tuo PC puoi configurarlo quindi in questo caso questi sono i tasti del controllo della Playstation 2 clicca su questo tasto qua e clicca sul controller il tasto che devi premere per giocare quindi in questo caso tasti direzionali che sarebbero i tasti a sinistra del controller quindi ci clicco sopra e faccio così ed eccolo qua me l'ha selezionato come primo tasto oppure vai sul triangolo e al posto del triangolo io per esempio io ho l'Y quindi metto lo stesso l'Y quindi faccio Y ed eccolo qua ho messo Y quindi faccio in modo che questa Y sia il triangolo quindi se mi dice di premere triangolo sul gioco io dovrò premere il tasto Y quadrato è la X per me qua croce è la X che sarebbe per me A cerchio è la B poi su sinistra questo destra quest'altro tasto giù quest'altro analogico sinistro quindi la parte più importante sono gli analogici quindi se tu premi su keyboard W questo qua il tasto sposti un po' l'analogico verso su e te lo segna come analogico verso su che ha premuto quello a sinistra quindi sinistra qua analogico sinistro sposti a sinistra questo qua ok lo sposti a sinistra fai così a sinistra e l'hai spostato destra sempre questo lo sposti a destra così te lo segna qua sopra giù stessa cosa questo lo premi giù ok deve uscire più e qui è meno stessa cosa anche sull'analogico destro quindi questo su questo sinistra questo destra e quest'altro giù una volta fatto passiamo ai tasti L3 R3 R2 R1 L2 L1 quindi L1 L2 R2 R2 R1 ok una volta fatto fai la stessa cosa anche su R3 L3 L3 tu devi schiacciare questo quindi schiaccia L3 e schiaccia R3 su start premo così il start e select premo select ed eccolo qua e abbiamo fatto ho configurato così il mio controller quindi se adesso vado a giocare posso premere direttamente i tasti che ho premuto qua sopra ed eccolo qua porta USB non connesso qui invece se hai un controllo della PS2 puoi connetterlo al computer e te lo segna qua sopra ed ecco che ho configurato così il mio controller qua sopra una volta fatto fai chiudi ok e se è tutto salvato scusate tanto se non posso farvi vedere così il test al gioco usando il mio controller però in questo caso il metodo è sempre questo e se hai bisogno c'è in alto a destra un altro video quindi un'altra guida che ho fatto tanto tempo fa dove io configuro un altro controller e che lo testo anche in un gioco quindi il metodo resta sempre questo quindi per altri problemi commenta sotto al video se è stato utilissimo questo video iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao